Coraggio, quello innato e addestramento durissimo sono le caratteristiche della First Special Service Force, soldati diventati eroi. Al loro sacrificio sulla Winterline Luciano Bucci ha dedicato un libro tributo. Il lavoro del presidente dell'associazione culturale Winterline è frutto di storie e aneddoti raccolti con impegno e passione in più di dieci anni di rapporti, spesso mutati in amicizia con i familiari e nei casi più fortunati con gli stessi veterani della unità speciale americano-canadese. Per ascoltare di persona la loro storia, leggendola sì, ma dalle espressioni dei volti, Bucci più volte si è recato in America. Non è un trattato storico ma più un viaggio nei luoghi e nelle storie che mi sono stati tramandati da voce diretta dei veterani. A proposito di viaggi e di rapporti di amicizia nati tra l'autore e le persone incontrate lungo il percorso che ha condotto al libro, presso la sala convegni del Museo Winterline per la presentazione, anche Tom McWilliam Jr., figlio di uno degli eroi della First Special Service Force. La Winterline è un bacino di prova di nuove tecniche, nuove tattiche, nuove idee militari e la Special Service Force è una di queste. E poi la scoperta tramite i racconti personali che sono inseriti dentro il libro, anche di aneddoti che rendono ancora più umana questa storia. Il libro innanzitutto è una grandissima raccolta di foto then and now, cioè quindi foto storiche comparate con foto moderne, foto presente del presente. E quindi a me piacerebbe fare in modo che il lettore capisca come i luoghi, che attualmente sono luoghi di pace, hanno visto passare il fronte in maniera più selvaggia e quindi questo confronto di come la nostra pace, che noi viviamo adesso nel nostro territorio, sia risultato del sacrificio di tanti uomini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti